Si potrà visitare fino al 20 settembre nel Bar Tettamanzi di Nuoro la mostra fotografica di Manuela Flore, un evento inserito nel progetto Tribu2 che mira a far uscire le opere dagli spazi museali avvicinandoli al grande pubblico. Un'indagine fotografica, quella di Manuela Flore, che con i suoi scatti rivela le bellezze ospitate in tre strutture museali del Nuorese, il Museo Tribu di Nuoro, il Museo Man del Capologo Barbaricino e il Museo Nivola di Orani. Manuela Flore, come nasce l'idea di questa mostra? Nasce durante una delle tante passeggiate con mia nipotina, una bimba di tre anni, Anita, all'interno del Museo Ciusa e della collezione regionale dedicata a Giuseppe Biasi. È lei stessa che ci accompagna all'interno della mostra dedicata all'artista, perché tutte le opere che sono rappresentate nelle fotografie sono state scelte da lei appunto durante la passeggiata. Le reazioni sono state molteplici, decisamente originali, viste appunto dagli occhi di una bimba di tre anni. Ad esempio, nel momento in cui è entrata all'interno della tenda, dove si trova l'opera Faisha, una venere nera, nuda, distesa, Anita si gira verso di me e mi chiede, Zia Manu, ma come mai questa signora è senza mutande? Quindi è anche interessante vedere la prospettiva di una bimba così piccola davanti alle opere di un gigante della nostra isola, come Giuseppe Biasi. Sergio Flore, curatore della mostra, come è stata sviluppata poi questa idea iniziale? Il progetto nasce sicuramente dall'intuizione fotografica di Manuel Flore. Io mi sono innamorato immediatamente anche della sensibilità del suo obiettivo e a quattro mani abbiamo scelto di raccontare tre spazi museali del nostro territorio, lo spazio Tribu, il Museo Man di Nuoro o la fondazione Costantino di Volà a Orani. Avere queste foto in uno dei caffè storici della città significa dare visibilità al nostro patrimonio culturale, l'intento, l'obiettivo del progetto è quello di avvicinare i più ai nostri musei. Oltretutto il punto di forza del progetto è che lo stesso è stato interamente finanziato da privati. Questo significa che dimostra cittadini sensibili e attenti alle problematiche che oggi colpiscono tutto il territorio e in particolare il nostro patrimonio. Significa che le persone sono attente al mondo della cultura e vedono in quest'ultimo un volano di un'economia sostenibile e possibile per questo territorio. Le fotografie dunque sono unificate da una bimba, quasi una fata bambina, che accompagnerà il visitatore lungo i tre spazi museali. Il primo appuntamento è proprio questo dedicato allo spazio Tribu, spazio per le arti del Museo Ciusa, il cui titolo appunto Tributo, omaggio a questo spazio.